Meghan Markle e il principe Harry sono ancora pagati da Netflix nonostante la serie della duchessa del Sussex sia stata cancellata, ha detto un esperto reale. Meghan Markle, 40 anni, e il principe Harry, 37 anni, hanno firmato un accordo multimilionario con il gigante dello streaming dopo essersi dimessi da reali senior, ma non hanno ancora prodotto alcun contenuto per questo. La corrispondente reale Natalie Oliveri ha sottolineato che la coppia reale sarà ancora pagata mentre il loro primo progetto per Netflix potrebbe arrivare fino al prossimo anno. Ha detto a Today Extra, è un peccato. Harry e Meghan hanno firmato con Netflix dopo aver lasciato la famiglia reale, lasciando le loro posizioni di reali senior che lavorano nella famiglia reale, non hanno fatto molto con Netflix da quando hanno firmato quell'accordo multimilionario. Sono ancora pagati. Non hanno ancora prodotto nulla. Tuttavia, abbiamo visto recentemente Harry e Meghan nei Paesi Bassi. Stavano girando una docuserie per Netflix, Art of Invictus e che dovrebbe essere presentata in anteprima entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo anno, sarà davvero il loro primo progetto. La serie animata della duchessa del Sussex su una giovane ragazza è stata abbandonata da Netflix. Lo spettacolo di Archevel Productions per l'uno dei due progetti annunciati come parte dell'accordo Netflix tra Harry e Meghan era impostato per concentrarsi sulle avventure di una ragazza di 12 anni ispirata da donne influenti della storia. Meghan doveva servire come produttore esecutivo della serie insieme a David Furnish regista e marito di Sir Elton John secondo un annuncio pubblicato sul sito web di Archevel lo scorso luglio, Perl è stata eliminata da Netflix come parte delle decisioni strategiche che il gigante dello streaming sta prendendo in merito alle serie animate. Resta inteso che Netflix ha deciso di non andare avanti con lo sviluppo di diversi progetti, uno dei quali è Perl.